Devo ringraziare tutte le persone che erano presenti all'incontro di mercoledì sul tema come imparare a gestire le emozioni. In quelle occasioni vi ho parlato molto della mente oceanica. Cos'è la mente oceanica? Lo dico in due parole. Quando c'è un disagio, immaginare dentro di te un vasto mare, un mare vastissimo e affidare il dolore a quel mare sono parole che ho imparato a conoscere dal taoismo che dice che tutto è come l'acqua, noi siamo un'acqua che continua a divenire e bisogna stare attenti a non fissarsi sulla causa di un disagio perché altrimenti la cronicizziamo mentre l'acqua, l'acqua interiore, la vorrebbe mandare via. Moltissime delle persone presenti hanno fatto questo esercizio e ne hanno trovato un grande solievo nei confronti dei loro dolori, dei loro disagi, delle loro tristezze, delle loro ansie. E secondo me sono arrivate tante mail in questo senso, io li ringrazio perché la cosa più importante è che hanno poi continuato a farlo nei giorni successivi. La consapevolezza entra dentro di noi goccia dopo goccia. E così come il fiore non lo vede dicembre, ma l'albero lo sta preparando. Ecco, i nostri miglioramenti vengono fuori giorno dopo giorno, tanto più noi vogliamo essere consapevoli e siamo presenti consapevolmente delle cose che ci accadono.